Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Come studiare un libro universitario. Oggi parliamo di organizzazione del materiale. Quindi voglio farti capire cosa devi fare precisamente per riuscire a gestire quello che devi studiare. Quindi oggi facciamo come esempio pratico, quindi continuiamo questa rubrica sugli esempi pratici per studiare e utilizzo come esempio un libro di psicologia generale che ho già utilizzato negli altri esercizi, quindi negli altri video per illustrarti le altre tecniche. Quindi continuiamo con questo, ma oggi ne vediamo un altro aspetto. Quindi cerchiamo di capire cosa devi fare per studiare un libro e quindi gestire il materiale che hai a disposizione. Ora, ad esempio, in questo caso in particolare abbiamo 12 diversi capitoli per un totale circa di 350 pagine. Quindi questo è potenzialmente un libro che potresti studiare, questo è un libro di psicologia generale, però tendenzialmente come quantità di materiale, è un qualunque libro che potresti studiare all'università. Ora, la prima cosa che farei io è intanto partire individuando quali sono i argomenti. E quindi partiamo proprio dal riscriverli a parte. Quindi cerchiamo già di mettere le mani in pasta e cominciare a personalizzare e rielaborare ed elaborare le informazioni del testo stesso. Quindi partiamo da un primo capitolo. Il primo capitolo riguarda le origini e gli sviluppi della psicologia. Ok, questa quindi è una prima parte. Quindi dobbiamo già cominciare a entrare nella logica che all'interno di questa prima parte dobbiamo entrare nell'argomento. Quindi, come vedi già, non sto analizzando i capitoli esclusivamente contando le pagine e distribuendo il numero di pagine nel periodo di tempo che dopo vediamo che è importante, ma è troppo limitante, troppo riduttivo. Cerchiamo di capire un po' il materiale. Quindi questo possiamo associarlo al primo capitolo fra tutti quanti. Ora, quindi abbiamo capito che dobbiamo vedere un po' qual è l'origine. Il libro ci consiglia di partire dagli albori di questa disciplina. Dopodiché dobbiamo capire che il secondo capitolo riguarda i metodi della ricerca in psicologia. Quindi entrambi questi capitoli, intanto scriviamolo così, abbiamo un punto di riferimento. Quindi i metodi della ricerca in psicologia. Ora, questi due capitoli, e quindi possiamo in modo così fittizio cominciare a dividere il libro già in una prima parte, sono un'introduzione a quello che dobbiamo studiare. Quindi, partendo da questi due elementi, quindi da questi due capitoli, abbiamo già un'idea di quali sono quelle informazioni che ci interessano, ci servono per cominciare a entrare nella materia. Ma non siamo proprio nel vivo, che invece arriva, come vediamo, nel terzo capitolo. Sensazione e percezione. Quindi sensazione e percezione rappresentano due elementi molto importanti ed il primo capitolo. Ora, quando andremo a studiare realmente il libro, dobbiamo cercare di capire perché stiamo iniziando proprio dalla sensazione e dalla percezione. Perché non iniziamo, ad esempio, dalla memoria. E una possibile risposta a questo aspetto potremmo scoprire più avanti, che magari è legato proprio al fatto che la sensazione e la percezione sono i due elementi più semplici di quando entriamo a contatto con il mondo. Ora, passiamo al capitolo 4, in cui cominciamo ad elaborare i concetti di attenzione, di coscienza e, infine, quello di azione. Ora, questo capitolo è già più complesso rispetto al precedente. E infatti vediamo che già siamo arrivati a quasi, o poco più, di 100 pagine. E questa quantità di materiale ci fa capire che è importante intanto avere una base, l'abbiamo visto prima, ma anche riuscire ad approfondire i primi concetti nel modo giusto. Ora, man mano studiando questo libro, magari potremmo cominciare a scoprire che l'attenzione è quella caratteristica fondamentale per noi esseri umani per poter fare qualunque cosa. Perché senza l'attenzione non potremmo dirigere le nostre energie verso qualcosa e quindi non potremmo fare in sostanza nulla. Il fatto che noi siamo consapevoli del direzionare queste energie prende appunto il nome di coscienza. E poi, per poter modificare il mondo attorno a noi, entra in gioco l'azione. Quindi, come hai già capito, attraverso questa semplicissima analisi di questi quattro capitoli iniziali già abbiamo un'idea, sì, sommaria, molto generale, ma comunque importante, fondamentale, perché stiamo cominciando a capire che studiare un libro, quindi qui torniamo proprio all'organizzazione del materiale, non è solamente contare il numero di pagine, quante pagine studio, riesco a studiare 20 pagine al giorno e quindi in due giorni ho fatto 40 pagine. Questo sì, è utile, ma non ha senso se non sappiamo di che cosa stiamo parlando e dobbiamo fare quindi uno sforzo per capire che cosa stiamo facendo. Continuiamo e voglio farti anche l'esempio con qualche altro capitolo. Il quinto capitolo si parla di rappresentazione, parla di conoscenza e di simulazione. Ora, il concetto di rappresentazione è molto importante, tra l'altro è molto importante nello studio in generale, perché riguarda il modo in cui noi riusciamo appunto a rappresentare i contenuti all'interno della nostra mente. A prescindere dall'apprendimento, in generale, la nostra capacità di avere un'immagine, ma non solo, anche la rappresentazione di un suono o di un sapore o di un odore, di qualcosa di esterno nella nostra mente, appunto immagazzinata anche sotto forma di memoria, è fondamentale. E quindi diciamo capendo che già, tra una prima parte, che ti ho detto all'inizio, in cui ci sono due diversi elementi, che rappresentano però rispetto a tutto il libro, una parte introduttiva, stiamo man mano passando a una prima fase attraverso sensazione e percezione in cui le informazioni si riferiscono a qualcosa che è piuttosto basilare per l'argomento. Man mano stiamo entrando sempre più dentro la psiche, potremmo dire, e quindi stiamo passando da qualcosa di molto esterno come la sensazione a qualcosa di molto interno come la rappresentazione e la conoscenza. Come vedi, non sto facendo nessun riferimento a teorie o esempi o studi particolari. Sto cercando di estrapolare come punto di partenza qualche significato, anche esclusivamente ragionando sulle pochissime informazioni, sulle poche parole che sono riportate all'inizio di ogni capitolo. Questo è fondamentale. E come possiamo vedere ad esempio andando avanti con il capitolo 6, arriviamo all'apprendimento e all'esperienza. Questi sono due concetti molto importanti perché sono legati tra loro. L'apprendimento ci fa direttamente pensare, senza aver studiato niente in particolare, proprio come senso comune, la capacità di prendere informazioni dall'esterno e farle nostre. Ma farle nostre perché? Perché poi dobbiamo riuscire a riapplicarle nell'esperienza. E quindi l'esperienza diventa questa costituzione di qualcosa di particolarmente articolato, con tante caratteristiche, spesso alcune sono anche poco note. E questa esperienza è il risultato e poi è anche influenzata appunto dall'apprendimento. Come vedi, ho già introdotto gli argomenti esclusivamente guardando l'indice. Quindi ovviamente non pretendo che apri il libro e improvvisamente sai tutto. Stiamo parlando di un argomento che, o di argomenti in generale che abbiamo affrontato nel canale, quindi so un minimo di cosa stiamo parlando. Ma come vedi, non ti ho fatto nessun esempio articolato o particolare di quali sono i metodi di ricerca e niente. Spesso moltissimi studenti tralasciano questo aspetto. Quindi tralasciano il fatto di avere intanto per cominciare una base su cui poi si può andare a costruire a poco a poco. Quindi, ad esempio, dopo aver inquadrato questo aspetto, ipotizziamo che abbiamo completato e fatto tutti i capitoli, non lo faccio in questo video per non rendere troppo lungo e noioso, facciamo un esempio. Abbiamo capito che la prima parte è rilegata alle origini e agli sviluppi della psicologia. Sappiamo che è a pagina 11. Scendiamo fino a pagina 11. E quando andremo ad affrontare questo capitolo, lo affrontiamo con la prospettiva di sapere che questa è una parte introduttiva di quello che poi andremo a studiare. Quindi magari c'è qualche accenno ai metodi, quindi qualche argomento che verrà dopo, o alla sensazione, all'attenzione, qualunque cosa. Però sappiamo che questo è introduttivo. Se apriti questo ragionamento a tutto, avrai già in mente, senza sforzi eccessivi, ti basterà guardare un paio di volte l'indice per renderti conto di quello che ti aspetta quando vai a studiare. e questo ti dà un grandissimo vantaggio perché hai già in mente l'idea non solo di quello che dovrai andare a fare e ti permetterà anche di migliorare in modo in cui andrai a distribuire tutte le informazioni, quindi il carico del materiale, più avanti quando dovrai cominciare a studiare effettivamente, singolarmente, pagina per pagina. Quindi questo è il primo video in cui ti spiego come riuscire a studiare un libro universitario partendo dall'organizzazione che è fondamentalmente già servita su un piatto d'argento attraverso l'indice e quindi fammi sapere nelle sezioni dei commenti se hai qualche dubbio o qualche perplessità, se magari qualcosa non ti è chiara posso riuscire a spiegartela e quindi capirci meglio. Ti invito ad iscriverti al canale per rimanere aggiornata o aggiornato sui video che escono quotidianamente. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e quindi ti aspetto nel video che uscirà domani.